Un viaggio a ritroso nel tempo, nei luoghi che conducono alla Basilica di San Pietro. I musei capitolini aprono il loro spazio alla mostra La Spina, dall'Agro Vaticano a Via della Conciliazione, un'esposizione che racconta luoghi e percorsi che non esistono ormai più, ma che costudiscono tuttora la memoria di avvenimenti storici che hanno contribuito alla crescita di Roma come capitale dello Stato italiano. Sculture, affreschi, dipinti e cartografie raccontano la storia della Spina dei Borghi, cioè dell'isolato rinascimentale poi demolito con l'apertura di Via della Conciliazione, che tutt'oggi collega Roma allo Stato Vaticano. Le fasi di vita di San Pietro sono illustrate nelle tante opere in mostra organizzata da Zetema Cultura. Non è la classica mostra su Roma Sparita e neppure una mostra sulle demolizioni. È una mostra archeologica, nel senso che vuole raccontare attraverso le testimonianze materiali del passato l'evoluzione di una zona della città, una zona così significativa e così importante perché era l'agglomerato urbano, il tessuto che si era venuto a creare intorno alla Basilica di San Pietro. Trasformazioni sociali e architettoniche, spesso sconosciute alla collettività, che ora vengono riportate alla luce nell'anno santo, in cui tutti gli occhi sono puntati su San Pietro e sui tanti pellegrini che attraversano ogni giorno Via della Conciliazione. La connessione con l'attuale giubileo è evidente. Noi abbiamo deciso di proporre questa esposizione in questo momento, quale contributo della sovrintendenza e dell'amministrazione capitolina alle celebrazioni del giubileo. Profili simbolici, interventi strutturali che si sono susseguiti negli anni per definire il problema dell'accesso a San Pietro, aprendo alla grande Via della Conciliazione dopo la fine del dissidio tra Stato e Chiesa con i Patti Lateranensi del 1929.